Ma non lo viviamo nella stessa maniera delle altre partite, perché noi Capri o Pompei o che sia, come atteggiamento noi vogliamo sempre vincere. Poi in campo ci riesce o meno, ma come atteggiamento l'obiettivo è sempre quello di poter provare a vincerle con tutte. È ovvio che il presidente, dopo la partita di Pompei, quando tu comunque hai dimostrato in mezzo al campo dal punto di vista tecnico, almeno da come anche voi mi avete sottolineato dopo quella partita, almeno sicuramente nel secondo tempo, meritavamo almeno un pareggio, quindi è ovvio che il presidente è oltre ad essere presidente, il presidente è un tifoso.